Che disastro. Il fatto è che io lavoro in casa e mi serve silenzio assoluto. Assoluto. Non mi so concentrare fuori da qui. Però io non faccio rumore. Suono il piano. Ma quello lì non è rumore, quella è musica. Mi disturba ugualmente. Va bene. Va bene, io lo capisco. Credo. Ma ci sarà un modo per risolvere la cosa? Come, per esempio, stabilire degli orari per non darci fastidio a vicenda. No, no, no. Se ti dico che si sente tutto. Si sente tutto. Va bene, e allora che facciamo? Uno di noi due se ne deve andare. Io? Io ero già qui. Vuoi dire che stai lì a terrorizzare con questi rumori spaventosi tutti quelli che vengono a vivere in questa casa? Si può riassumere così. È davvero assurdo? Fino a oggi ha funzionato. Oh mio Dio, è pazzo. Certo, è possibile. E Есть. Tres. E' pazzo. Grazie a tutti.